Siamo a Verona, stiamo andando verso l'arena, in centro. Abbiamo mangiato in un pub qua vicino, in un pub tedesco. Siamo diretti verso Piazza Bra, dove c'è l'arena di Verona. Andiamo a fare un bel giro a Verona e andiamo a visitare questa città dell'amore. Stiamo andando a vedere il Castel Vecchio. Grazie per la visione. 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 Dopo aver visto il panorama bellissimo del Castel San Pietro, adesso siamo diretti verso l'arena di Verona e verso Piazza delle Erbe, la bellissima piazza di Verona, detta anche il Salotto d'Italia. Grazie per la visione. 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 la piazza dell'Arena di Verona. Allora, stiamo tornando adesso dal nostro giro giornaliero dell'Arena di Verona e di Verona e diciamo l'abbiamo vista in maniera molto molto veloce perché poi domani abbiamo intenzione di goderci appieno il borgo di... ...soave... che dista circa mezz'oretta esatto e quindi diciamo oggi l'abbiamo visitato un po' di fretta e furia però abbiamo visto le cose necessarie che c'era da vedere se vi è piaciuto questo nostro video di oggi mettete un like e iscrivetevi sul nostro canale ciao a presto male, ma dove siamo? all'Arena di Verona so zocchi ciao a presto ciao a presto ciao a presto